Ieri avete chiuso le scuole, la situazione non è semplice. Ieri le scuole sono state messe in dad da lunedì perché la situazione dell'infezione è abbastanza complessa. I bambini spesso sono veicoli di infezione perché sono totalmente asintomatici. Noi abbiamo una struttura sociale con tantissimi anziani e quindi ho preferito precauzionalmente, visto i casi e visto il fatto che già la dirigente scolastica aveva sospeso le lezioni in presenza di tutte le elementari, di metterci tutto l'istituto. Io invito sempre tutti quelli che non l'hanno ancora fatto a vaccinarsi perché è l'unico modo in questo momento per superare questa difficoltà e per continuare a poter vivere in maniera degna. Arriverà una cura, ma fino a che non arriva una cura l'unica arma che abbiamo è il vaccino. Grazie Sindaco. Grazie.